Ciao a tutti, noi siamo le Karma B e abbiamo una bellissima sorpresa. Torna, ostriche e caffè americano, finalmente! In una versione streaming, ovviamente, ma con la protagonista più amata di tutta Italia, ossia Sandra Milo, in versione, pensate un po', drag queen. E poi ci siamo noi! Ci sarà Walter Palamenga, che è anche autore e regista dello spettacolo, Luca Arcangeli e Vittorio Surace. Il tutto all'Ecoteatro di Milano, che produce spettacoli a basso impatto ambientale. Potete sostenere lo spettacolo facendo un crowdfunding con ProduzioniDalBasso.com Vi metteremo qui lo swipe per sapere come si fa. E otterrete una password che vi permetterà di vedere lo spettacolo in streaming. Per chi invece farà le donazioni un po' più corpose, ecco, ci sarà una grandissima sorpresa. Si parla addirittura di video messaggi personalizzati. Forse una cena con tutto il cast, ma non lo possiamo dire. Insomma, ecco, quindi, mi raccomando, diventate un po' anche voi produttori di ostrich e caffè americano, sosteneteci e ci vediamo presto.